Dalle opere che sono qui esposte grazie alla cooperativa Jobel e a Santo Vazzano che mi ha dato la possibilità tramite la parete di Parco Pignera di esporre una serie di lavori che vertono sull'orfismo e sul pitagorismo. Si basano sulle radici della nostra città, sulla storia che ha fondato il nostro territorio e la cosa positiva e bella è che c'è l'arte che è una forma di linguaggio che riesce a comunicare nella contemporaneità un messaggio a modo mio. Quindi diciamo che il messaggio è di tutti perché nessuno ha l'esclusiva su Pitagora o sulle radici ofi. È un patrimonio culturale che appartiene a tutti i crotonesi, però il modo di descrivere queste cose è singolare. Nasce l'amore per la scultura, questi archetipi degli elmi, questi messaggi filosofici che mi hanno colpito molto fin da quando ero ragazzo, fin da quando ero bambino. Nel corso degli anni è stata un'evoluzione che mi ha accompagnato sempre nella mia vita, nelle varie fasi dell'età, nelle quattro età che Pitagora descriveva. E man mano che nella mia vita crescevo capivo anche la complessità di determinati messaggi teologici, filosofici che da bambino non capivo. Grazie all'esperienza che ho fatto nella vita, gli studi e i rapporti anche filosofici con altri filosofi di altre culture, quindi dall'India, dalla Persia, dall'Egitto, ho scoperto un mondo vastissimo. Mi sono meravigliato dalla complessità e dalla bellezza del messaggio pitagorico, perché poi alla fine l'amore per il bello, che Platone riprende, che noi abbiamo in modo innato, noi esseri umani, ma dobbiamo coltivare, scoprire e portare avanti. Quindi il bello non in senso esterno, effimero, ma il concetto di bello è un concetto molto più alto.